Radio Kis Kis Sì, buongiorno signor Ancelotti e la sua conferenza stampa diciamo di bilancio di questo ritiro. Mi raccontano che lei è particolarmente soddisfatto di come ha lavorato, di come ha lavorato la squadra, di quanto lei sia soddisfatto del gruppo. Ma è vero o è falso? No, no, è vero, è vero, abbiamo lavorato molto bene, ho trovato un gruppo come ho detto più volte sano, con molte conoscenze, applicato con qualità, perciò non abbiamo avuto nessun tipo di intoppo a parte diciamo il piccolo infortunio che ha avuto Zelischi ieri e l'infortunio di Meret, però per il resto tutti a disposizione e credo che diciamo questo periodo sarà molto utile perché il lavoro fatto è stato ben assimilato e positivo insomma è